Nelle ultime ore sono emerse posizioni diverse, in maggioranza per quanto riguarda il divieto di balneazione nella zona centrale di Pescara. Lei avrebbe chiuso il tratto di Viale Mazzini? Io ho detto che se non ci fossero state quelle strumentalizzazioni non si sarebbero forse, o si sarebbe valutata in maniera coerente con la precedente, la possibilità di emettere delle ordinanze o no. E mi spiego, Viale Mazzini o Via Mazzini, che è un punto di campionamento dove capita una volta l'anno che ci sia uno sforamento minimale, è di tutta evidenza che quello sforamento rientra nell'arco di 24 ore e anche meno. E' accaduto ciò, che nel giorno stesso in cui è stata emessa l'ordinanza dal sindaco, che non poteva fare diversamente, dopo gli attacchi feroci che ha ricevuto da un'opposizione non proprio attenta, non solo alle questioni della salute, ma all'economia, al turismo, all'immagine della città. Se si fossero valutate tutte queste cose molto probabilmente qualcuno avrebbe utilizzato toni un po' più pacati. C'è stato però forse probabilmente un danno d'immagine per Pescara oppure no? Assolutamente sì. Come si fa a non ritenere che quella polemica ha procurato un danno d'immagine incredibile? Ci torneremo al momento opportuno, ci tornerà la magistratura, ci torneranno i dati scientifici delle organizzazioni della sanità e sono certo che tutti dimostreranno l'assoluta benevolenza dell'assunzione assunta dal sindaco e l'assoluta malevolenza di chi ha voluto strumentalizzare a fini politici. Una questione che invece andava guardata con occhio diverso. E lo dico anche a quel Berardino Fiorilli che oggi è tornato a far politica insieme a Maurizio Acerbo. Non credo che possano essere loro a dire dove si è sbagliato oppure no, ma sicuramente possono partecipare criticamente, ma non con il guardo rivolto a chi vuole far cadere a tutti i costi un'amministrazione per avere chissà quale chance di potersi ricandidare, caso mai essere eletti.